Niente, speravo... No, nulla. Nulla di che? Assolutamente. Beh, l'ultima puntata si è conclusa in una nuova. Ovviamente è un qualcosa di fisico che manca, no? Fondamentalmente. Parliamo in Aurora. Non c'è Aurora. Non c'è oggi? No. Non c'è proprio? No. Comunque non volevo parlare di lei perché non essendo in studio appunto non mi sembra il caso. Però volevo fare un minimo di chiarezza rispetto a tutto quello che è successo perché il bailam dell'altra puntata è stato veramente, chiedo scusa a tutti ovviamente del mio comportamento visto che in qualche modo non sono mai stato così, quindi c'è stato un qualcosa che... Io volevo ricordare che ero davanti, avevo davanti sia Alessandra che Patrizia quel giorno e ho chiesto soltanto venissero rispettati i sentimenti di persone a me care, no? Giusto. Poi è degenerata la situazione, me ne dispiaccio. Però mi sono reso conto di essere caduto poi nell'errore di essere andato a toccare i sentimenti di altre persone nella fattispecie della mamma di Aurora appunto a cui chiedo veramente scusa perché poi in qualche modo, non lo so, l'adrenalina, non lo so però mi sono sentito veramente oltre quello che sono sempre.